La nostra regione continua ad essere interessata da un'ampia circolazione depressionaria che determina condizioni di tempo instabile con frequenti precipitazioni in un contesto termico lievemente al di sotto della media stagionale. Le forti piogge che nei giorni scorsi hanno interessato gran parte del territorio regionale ormai sono solo un ricordo poiché la depressione sta perdendo vigore per cui anche la situazione andrà lentamente migliorando nel corso di questo fine settimana. In particolare il fronte perturbato che ci interesserà nella giornata di sabato avrà una traiettoria più occidentale rispetto a quelli dei giorni scorsi per cui la nostra regione sarà interessata marginalmente con i massimi effetti che si registreranno in mare aperto e localmente lungo la costa meridionale. A seguire l'alta pressione subtropicale sembrerebbe muoversi a compassione verso nord ponendo così fine a questa lunga fase instabile. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 12 dicembre cielo nuvoloso o molto nuvoloso lungo la costa con precipitazioni sparse specie nella prima parte della giornata. Maggiori schiarite interesseranno invece il settore orientale della regione dove non sono previste precipitazioni di rilievo, temperature stazionarie, venti deboli di direzione variabile e mare tra poco mosso e mosso sotto costa molto mosso o agitato a largo. Domenica 13 condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con maggiori schiarite sulle aree costiere specie centrosetenzionali. Locali addensamenti potrebbero interessare le aree montuose dove non si escludono locali piovaschi. Temperature senza particolari variazioni, venti da deboli a moderati da nord est e mare poco mosso. Lunedì il vortice depressionario si allontanerà definitivamente verso il Mediterraneo orientale consentendo l'espansione di un promontorio anticiclonico dal nord Africa. Alta pressione, anche se non molto convincente, si insedierà sulla nostra penisola garantendo almeno fino a metà della prossima settimana condizioni di tempo stabile ed ampiamente soleggiato. Tuttavia, durante la notte e al primo mattino, ritorneranno le nebbie e le foschie dense nelle aree vallive. Ma per maggiori dettagli invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.mediogiuliacci.it. Bene, con il Medio è tutto. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.